Ancora San Paolo e la sua lettera ai Galati offrono spunti di riflessione a Papa Francesco. Nell'udienza generale parla della novità della rivoluzione di Gesù, l'essere figli di Dio in Cristo, la trasformazione nel profondo che permette di chiamare il creatore biblico Abba, Padre. Un'identità nuova sul piano etnico e religioso che ha conseguenze rivoluzionarie. L'Apostolo delle Genti afferma che non c'è più né giudeo né greco, né schiavo né libero, né uomo né donna. Insegnamenti sovversivi, persino eretici, nella comunità giudaico-romana, ma anche oggi per nulla scontati. Tanta gente nel mondo, tanta, milioni, che non hanno diritto a mangiare, non hanno diritto all'educazione, non hanno diritto al lavoro. Sono i nuovi schiavi, sono coloro che sono alla periferia, che sono sfruttati da tutti. Anche oggi c'è la schiavitù. Anche la differenza tra i due sessi, continua il Pontefice, ha bisogno di essere riaffermata oggi. Uomo e donna hanno la stessa dignità e c'è nella storia, anche oggi, una schiavitù delle donne. Le donne non hanno le stesse opportunità degli uomini. Dobbiamo leggere quello che dice Paolo. Siamo uguali in Cristo Gesù. Ogni distinzione diventa secondaria rispetto alla dignità di essere figli di Dio. È per questo che tra i cristiani non dovrebbero esserci contrasti. La loro vocazione è piuttosto quella all'unità del genere umano. Al termine dell'udenza, il Papa rivolge un pensiero all'Etiopia, quanti soffrono per il conflitto in atto e la grave situazione umanitaria. Poi il saluto agli studenti. Cari giovani, che quest'anno accademico sia per tutti voi occasione di crescita culturale e di approfondimento dei legami e amicizie.